Hai mai pensato di presentare il tuo progetto con un video? Potrebbe essere più veloce e convincente di quello che pensi, ma vediamo insieme come fare. Abbiamo già visto come progettare una casa unifamiliare con un software BIM. Nella descrizione del video trovate anche il link che vi rimanda al focus. Supponiamo ora di dover presentare il nostro progetto ad un committente. In modo tradizionale lo avremo fatto generando le tavole grafiche, utilizzando le viste delle piante, dei prospetti, delle sezioni, i render statici e avremmo presentato il lavoro con stampe degli elaborati oppure con slide illustrative. Ma il nostro cliente, che magari non è un tecnico, avrà capito davvero tutti i particolari che abbiamo studiato e che volevamo trasmetterli? Guardando solo disegni tecnici e immagini statiche sarà in grado di immaginare tutti i dettagli del progetto? Perché allora non pensare ad un video, oltre che alle immagini, per comunicare meglio il nostro progetto? Oggi con le nuove funzionalità di Edificius puoi presentare il tuo lavoro in modo più chiaro e diretto con la funzione BIM Video Studio, un tool di video editing che ti permette di realizzare filmati e video di presentazione del progetto. I filmati che crei nell'ambiente BIM Video Studio sono legati al modello BIM in maniera dinamica. Per iniziare accediamo all'ambiente BIM Video Studio dal navigatore. Tutto il materiale di rappresentazione può essere montato facilmente in una timeline stabilendo la successione o la sovrapposizione di testi, immagini statiche o dinamiche relative a tavole grafiche, rullini o foto. Aggiungiamo i video realizzati nel real time sulla timeline. Le clip possono essere prelevate da foto o rullini scattati precedentemente oppure possono essere create in tempo reale interagendo direttamente con il modello grazie alla camera live che si presenta con un riquadro verde intorno alla finestra principale. Ne possiamo modificare la durata, tagliare la parte finale o modificare la dissolvenza in ingresso e in uscita. Ai video possiamo sovrapporre immagini o viste degli elaborati grafici per aiutare la comprensione degli spazi che si stanno navigando. Ne scegliamo la dimensione, posizione e il grado di trasparenza. Possiamo impostare l'illuminazione solare scegliendo un orario da assegnare all'inizio e alla fine di ogni video. In questo modo potremo rendere evidente lo studio del soleggiamento durante tutti i mesi dell'anno e decidere di far accendere le luci impostate nel modello per verificare se l'illuminazione sia sufficiente. Spostando il cursore lungo la timeline verifichiamo se il risultato del nostro lavoro ci soddisfa oppure no. È possibile anche scattare delle foto del modello dalla vista real time e inserirle direttamente nel video che stiamo costruendo. In questo caso alla vista creata associamo anche l'effetto pioggia. Con un marker indichiamo quando vogliamo che inizia a piovere e quando vogliamo che smetta. L'inserimento degli effetti ci aiuta a far capire il comportamento del nostro edificio nelle diverse condizioni climatiche e a migliorare la qualità della nostra rappresentazione attivando i diversi stili di visualizzazione. Aggiungiamo anche testi di commento al video decidendo la dimensione, la posizione e il colore. È importante sottolineare che non stiamo lavorando in post-produzione quindi il video che stiamo costruendo si aggiornerà in tempo reale con il modello. Ipotizziamo che proprio grazie al video di presentazione il cliente si accorga di voler fare delle modifiche al modello. Supponiamo che voglia eliminare dal prospetto principale la porta del garage. Direttamente dalla camera live entriamo nel modello e cancelliamo la porta. I filmati che abbiamo creato nell'ambiente BIM Video Studio sono legati al modello BIM in maniera dinamica e si aggiornano automaticamente ad ogni modifica portata nel modello. E ora vediamo i vantaggi dell'uso del video editing nella presentazione di un progetto. Hai uno strumento completo per presentare il tuo progetto con video real-time, immagini, elaborati grafici e testi. Trasmetti le tue idee al committente in modo chiaro e coinvolgente. Utilizzi un solo programma, Edificius. Modifichi il modello 3D e in tempo reale si aggiornano automaticamente i contenuti del video. Vi ricordo che potete scaricare il file di progetto completo di video di presentazione del modello cliccando il link presente in descrizione. Inoltre per scoprire BIM Video Studio e tutte le nuove funzionalità di Edificius relative all'architectural visualization potete aggiornare la vostra versione di Edificius alla BIM One oppure scaricare gratuitamente la trial sempre cliccando il link che trovate nella descrizione del video. Bene, con questo ho concluso. Scopriremo le altre funzionalità di presentazione del progetto nei prossimi video. Grazie per l'attenzione e buon lavoro!